Sud e Murano Ecco il tempo Mascherò la vicenda Io lo prendo una macchina Perché mi ti fa fare una macchina Io prendo la macchina Mi tiravo un ottimo Un coppio da macchina Mi mo' tolta la macchina E mi portava il calabritto Non lo portava Non so Io non dico che sono nonna già Però salve oggi siamo qui a calabritto in provincia di avellino ai confini di salerno siamo qui per percorrere il sentiero santuario madonna del fiume adesso percorreremo questa strada durante questo percorso vedremo varie cascate le cinque cascate e poi arriveremo alla fine del percorso della madonna del fiume un po' percorso della madonna del fiume un po' percorso della madonna del fiume un po' percorso della madonna del fiume Grazie a tutti. Eccoci qua, siamo qui come potete vedere alla Madonna del Fiume, qui all'ermo della Madonna del Fiume, come potete vedere una chiesa incastonata nella roccia. Qui si dice che le madri sono devote a questa Madonna perché la leggenda dice che porta abbondanza di latte materno alle parti orienti. Siamo ritornati con il buio, se vi piace questo video seguite sempre le mie avventure e iscrivetevi al mio canale in viaggio con il cast. A la prossima.